E' costato la vita ad un 34enne Daniele Norelli l'incidente stradale che si è verificato intorno alle 15.30 di ieri alle porte di Grottaie sulla strada che la congiunge a San Giorgio Ionico. L'uomo in sella la sua amata motocicletta ha impattato prima con un furgone per poi finire contro il guardrail. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Forse un sorpasso ha causato la tragedia ma è ancora troppo presto per circoscrivere la dinamica. In frantumi il mezzo a due ruote, pezzi che hanno raggiunto con violenza anche i parabrezza di un'automobile e poi disseminati sull'asfalto a testimonianza della gravità dell'impatto anche i danni riportati dalla parte sinistra anteriore del furgone. Il conducente si è procurato fortunatamente solo lievi contusioni. A curare rilievi e indagini la polizia di stato sul posto anche i vigili del fuoco.